regola 3-3-C correttezza, coerenza e credibilità in sostanza non devi fare cantante nella vita io dico che se non fa è il cantante cioè se devi fare cantante devi cantare se non sai cantare corretta, coerenza e credibile è meglio se no sei cantante perché ci sono cantanti e cantanti e per fare cantante devi essere credibile devi essere cosciante devi essere morandi se no non lo puoi fare cantante non lo devi fare cantante devi essere cosciante devi essere morandi se no non lo devi fare cantante perché diventi un cantante corretto, credibile e coerente è quando non dici cazzate sempre con la C se no sei cantante se invece vuoi fare cantante perché sai cantare ma devi essere del livello dei corcianti demoranti secondo te sto male? o 3-C o C o 3-C o C o fai cantante o sei cantante guarda ti giusto ma? viva la vita tutta la vita bella per te canta questa canzone qualunque cantante tu sia viva la vita grazie 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 grazie